A Margherita di Savoia, secondo le parole del sindaco Paolo Marrano, dal 1 ottobre dovebbe entrare in vigore un nuovo piano della viabilità impacchettato dal comune in quanto con i commercianti non si è trovato un accordo. Insomma, nella città salinara, stretta e lunga, senza svincoli, le strade ben presto dovrebbero diventare a senso unico. Nel frattempo, per l'ennesima volta, in pochi mesi è cambiato il senso di marcia lungo via Africa orientale, da via Duca degli Abruzzi a via De Nittis e si procede da Zapponeta verso Barletta. Lungo il tratto di strada, che va dallo svincolo per la caserma dei Carabinieri fino al Banco di Napoli, è stato disposto di interrompere la circolazione dei mezzi, eccetto gli scuola bus, da via Biliardo a via Ramo in fasce orarie prestabilite per consentire l'uscita dei bambini dalla scuola elementare Papa Giovanni XXIII. Si potrà parcheggiare su entrambi i lati e sul tratto di via Biliardo, mentre in via Ramo è stato istituito il divieto di sosto e fermata dalle ore 7 alle ore 20 di escluso i festivi. Il divieto di sosta sul tratto di via Africa orientale, compreso tra via Opificio fino all'intersezione con Corso Vittorio Emanuele sul lato sinistro nella direzione di marcia Barletta-Zapponeta, viene mantenuto, come anche il divieto di sosta e fermata, in prossimità di via De Nitti su entrambi i lati per consentire la manovra ai mezzi pesanti e agli autobus. Viene consentita la circolazione in via Biliardo nel senso di marcia terra-mare, fermo restando l'attuale regolamentazione della sosta mentre in via di Staso si procede nel senso di marcia Mare Terra.